Immagini ed esempi chiari per far capire quanto possa essere pericoloso utilizzare male una scala o non prestare la massima attenzione se si lavora in cucina. Sono solo alcuni spezzoni dei filmati che fanno parte della nuova campagna di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro a cura della Cassa Turistica Aldo Adige insieme a Dina Il Bolzano. Tentiamo di informare le persone per evitare infortuni sul lavoro che hanno un costo perché manca la persona, deve essere reinserita un'altra, cioè un costo per le aziende e dall'altra parte vogliamo prevenire le malattie professionali che vediamo solo nel tempo purtroppo. I filmati disponibili in lingua tedesca, italiana ed inglese illustrano con un po' di umorismo le principali fonti di pericolo per coloro che sono impiegati in cucina, nei vari servizi, ai piani, in attività di facchinaggio senza dimenticare la piscina, la sauna, l'area benessere. L'operazione DVD rientra nella terza fase dell'iniziativa nell'ambito della sicurezza avviata con la distribuzione di 6.000 paie di scarpe anti-infortunistiche e con la pubblicazione di un manuale contenente consigli pratici per evitare drammi ed incidenti. Il manuale e il DVD, di cui esistono mille copie, sono disponibili presso gli uffici dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti.